Lega rischiavano di mandare l'Italia in fallimento e poi qualche settimana fa tutti insieme questa Lega brigata ha fatto cadere il governo Draghi in un momento drammatico, la guerra, la crisi energetica e oggi la Meloni è venuta a fare comizi in Umbria, a fare propaganda invece di dare una mano prima con il governo Draghi e adesso alle famiglie, alle imprese che non ce la fanno a pagare le bollette, rischiano di collassare, rischiano di chiudere e rischiano di far perdere posti di lavoro. Bene avremmo preferito che invece di comiziare la Meloni fosse venuta a toccare con mano come funziona la sanità in questa regione, liste d'attesa interminabili, prestazioni che non si fanno più costringendo i cittadini ad andare dal privato, personale medico e paramedico che non si assume, un vero e proprio collasso, ecco invece di fare i comizi vieni a toccare con mano come governa la tua destra in questa regione contro i cittadini.